Massimo Cacciari, protagonista a Ferrara presso il Centro Sociale Il Parco. L'atteso incontro si è tenuto nella serata di lunedì 12 dicembre, di fronte ad un pubblico numeroso ed interessato. Titolo della serata, Le ragioni di Creonte, le ragioni di Antigone, evento organizzato dal Santuario del Poggetto in collaborazione con Estense Music Academy. Sergio Rossoni, rappresentanza della Scuola di Musica, ci ha spiegato così lo svolgimento della serata. Massimo Cacciari ha emozionato tutta una platea di 200 persone, anche i posti in piedi erano esauriti. E ha fatto e ha sviscerato con profonde riflessioni l'Antigone, la tragedia di Sofocle. Gran parte della letteratura e della filosofia, almeno negli ultimi 200 anni, sono a un confronto con la tragedia di Sofocle. Infatti spiega Cacciari che l'Antigone è una tragedia che è un archetipo sociale, un fondamento di una democrazia dialettica e discorsiva, in cui la partecipazione del cittadino alla vita della poli si era effettivamente attiva. È stata una serata piena di emozioni, anche perché è stato qualcosa di veramente alto. C'era con noi il professor Marco Bertozzi, Don Giuseppe Cervesi, che anche lui è un illuminato, e io Sergio Rossoni. Quindi vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti. Grazie. 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 Grazie.